No, è vero che sulla partita di oggi non c'è niente da dire, la zona c'è stato superiore, soprattutto all'inizio della partita dove si poteva anche giocare, poi dal trentesimo è vero che non era più calcio, poi non si può analizzare qualcosa sul resto della partita. Siamo allenati per giocare ogni settimana 90 minuti, però è vero che abbiamo fatto tanti sforzi per fare la rimonta, adesso magari paghiamo un po' a livello fisico, però il calcio alla fine stagione si gioca soprattutto in testa, quindi magari abbiamo calato anche sulla concentrazione, sulla mentalità. Questa volta sulla seconda parte del campionato è vero che ha fatto tantissimi punti, non dimenticare che il campionato non è finito, rimangono ancora 9 punti in gioco e quindi ci sono ancora 3 partite e bisogna giocare.